Arriva l'ok dalla regione toscana attraverso la sua direzione ambiente per la realizzazione dei lavori di ripristino della viabilità alternativa alla Tiberina Trebis. Il tratto interessato è quello tra Pieve Santo Stefano e Verghereto nel comune di Pieve Santo Stefano. Adesso non c'è più motivo di aspettare, ANAS può partire con i lavori, ha dichiarato l'assessore ai trasporti e alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli. Nei giorni scorsi, prosegue, abbiamo incontrato i vertici dell'azienda e ci è stato assicurato che dovrebbero partire entro la primavera. È una buona notizia perché la Tiberina Trebis rappresenta l'unica alternativa alla E45 e quanto sia importante questa alternativa lo si è verificato nei mesi di chiusura del viadotto Puleto. Stiamo lavorando, dice ancora, affinché l'avvio dei lavori segue il passaggio di competenza del tratto toscano della Tiberina Trebis ad ANAS nell'ambito del riordino delle competenze che il Ministero delle Infrastrutture sta portando avanti in continuità con le scelte già compiute dal Ministero sul tratto romagnolo. Per noi, conclude Ceccarelli, questa è la scelta più idonea per garantire una soluzione definitiva. Grazie a tutti.